Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, siamo al terzo vlog dove andremo a trattare un tema molto importante e che mi sta particolarmente a cuore, le sponsorizzazioni. Vi invito ad ascoltare il video fino alla fine in quanto è molto importante capire il sistema per richiedere le sponsorizzazioni sul mio canale. E prima di pubblicare questo video, ho fatto un giro su YouTube cercando la parola sponsorizzazioni. La maggior parte degli YouTuber su YouTube Italia richiedono sponsorizzazioni attraverso l'iscrizione al proprio canale e dalla richiesta di like e commenti ai propri video. In questa maniera la maggior parte dei nuovi iscritti ai loro canali non si sarà iscritta in quanto interessata al contenuto del canale o alla qualità dei loro video, ma bensì dal fattore sponsorizzazioni. Una volta ottenuta la sponsorizzazione da suddetto canale, tolgono l'iscrizione e tentano la fortuna su un altro canale. Non dico che tutti gli utenti fanno così, ma molti di loro lo fanno, in quanto lo YouTuber che sponsorizza invita quasi sempre a non disiscriversi al canale una volta ricevuta la sponsorizzazione. Io quindi non vorrei assolutamente adottare questo sistema, in quanto vorrei che il mio pubblico si iscrivesse al mio canale per i miei contenuti, per la qualità dei miei video e per essersi affezionati alle avventure o disavventure di Chem Chemist, che è il personaggio che presento nelle mie serie. Per questo motivo ho deciso di effettuare sponsorizzazioni gratuite senza richiedere alcuna iscrizione, like o commento ai miei video. Se vorrete sarete voi spontaneamente che deciderete di iscrivervi al mio canale e di essere attivi. Ma come funziona questo progetto? Vorrei portare una partita di poker fra YouTubers con soldi virtuali, con lo stesso meccanismo utilizzato per le partite con gli iscritti descritto nel secondo vlog. Quindi invito a guardare quel video, lascio il link in descrizione, per sapere i meccanismi della mia poker room privata e cosa fare per potervi accedere. Ogni YouTuber partecipante alla sponsorizzazione dovrà fare inoltre una clip dove presenterà il proprio canale. Questa clip dovrà durare massimo 20 secondi e dovrà inviarmela attraverso la mia posta elettronica, contatto sempre presente in descrizione. Questa clip di presentazione sarà inserita prima della partita live, in modo che tutti i spettatori conoscono i vari partecipanti seduti al tavolo e di cosa si occupano all'interno di YouTube. Ma quando arrivano le sponsorizzazioni? Ed in che modo? Ogni YouTuber dovrà registrare la partita ed editarla a suo piacere seguendo il suo stile e i suoi gusti. Senza modificare però la clip con le presentazioni che gli invierò. Naturalmente prima della clip di presentazione potrà inserire senza alcun problema la sua intro e presentare appunto il video. Da questo punto di vista massima libertà su come fare il video. Il video finale sarà poi pubblicato da ogni YouTuber nel proprio canale. Ed in questa maniera ogni YouTuber avrà portato il proprio contributo alla community pubblicando un video. Ed avrà ricevuto come regalo le sponsorizzazioni indirette di altri 5 YouTubers. Che anche essi hanno contribuito ad arricchire la community con un altro video. Penso che sia un modo divertente e creativo per avere sponsorizzazioni gratuite, divertirci insieme al tavolo verde e fare quello che più ci piace. Essere YouTuber. Ma come partecipare a questo progetto? Chi vorrà partecipare dovrà lasciare un semplice commento sotto questo video con l'hashtag collaboro con la community. Ed in ordine cronologico contatterò i vari YouTubers per la partecipazione all'evento. In maniera di massima si terrà una volta al mese. Quindi invito gli interessati a preparare in anticipo la clip da inviarmi. E di non inviarmela finché non sarete contattati per la partecipazione. Vi prego non fatemi esplodere la casella di posta. Grazie. Se avete domande o curiosità fatemelo sapere con un commento. Vi risponderò con molto piacere. E se questo video vi è piaciuto e l'idea vi sembra originale ed interessante, fatemelo sapere con un bel like. Aspetto le vostre adesioni. Se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi. Link in descrizione. Se non vi siete iscritti alla fanpage fatelo. Alla fanpage di Facebook fatelo perché tutte le novità e gli aggiornamenti su questa serie, su queste collaborazioni saranno fatte attraverso la mia pagina Facebook del canale. Sempre link in descrizione. Quindi un salutone dal vostro cam. All in a tutti.